Salve e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così il problema riguardo a FIFA 2024 che non funziona su PC quindi in questo caso se provo così ad avviare il gioco, riparazioni necessarie mi dice di fare perché in questo caso il gioco ha dei file danneggiati nella sua cartella oppure che non funziona se non si avvia perché non avete dato il permesso al Windows Defender Firewall di accedere così alla connessione internet quindi di dare i permessi riguardo alla condivisione della connessione pubblica e privata puoi fare direttamente clicca su Windows Defender qua, quindi sicurezza di Windows vai direttamente su protezione firewall della rete e fai consenti app tramite firewall ora andiamo direttamente su modifica impostazioni, controlla se hai aggiunto come puoi vedere eccolo qua EA App e EA Sports, eccolo qua FIFA 2024 privata e pubblica per inserire così il titolo del gioco qua dentro consenti un'altra app, sfoglia vai sul tuo volume ed eccolo qua entra qua dentro e ci inserisci questa qua è già nell'elenco delle eccezioni e faccio ok una volta fatto se non dovesse funzionare vai su gestisci e fai ripara mentre fa così la riparazione andiamo un attimo sui link che ti ho lasciato in descrizione per scaricare aggiornamenti per la tua scheda video quindi Driver DirectX, Driver per il tuo Windows e quindi questi sono i due link quindi Web Installer DirectX e quello di Microsoft C++ tutti e due link in descrizione scarichi il Web Installer DirectX lo installi accettiamo il contratto togliamo così il Bing Toolbar fine facciamo Visual Studio 2015 fino al 2022 scarica e installa tutti e tre le architetture ed eccole qua dopo la riparazione del gioco devi riavviare il tuo computer se invece è un problema dell'EA Anti Cheat gestisci visualizza le proprietà sfoglia e andiamo sull'EA Anti Cheat e il gioco si sta aprendo anche tramite il servizio dell'EA Anti Cheat quindi il gioco funziona perfettamente se no in questo caso puoi semplicemente vai direttamente nella sua cartella puoi eliminare così questi quattro file e poi fai la riparazione sul gioco qui c'è scritto ripara se non dovesse funzionare ancora tasto destro sopra mostra attropazione provità prova ad eseguirlo come amministratore quindi esegui sempre questo programma come amministratore e fai applica quindi il gioco è andato senza nessun problema per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao